Sulle prossime scadenze elettorali lei, Pepe Di Cristina, segretaria locale del PD, ha avuto numerosi incontri a Roma con i vertici nazionali del Partito Democratico. È stata l'occasione per affrontare soprattutto la vertenza Gela, perché già lei in più occasioni aveva detto quando andrò a Roma porterò sul tavolo del responsabile del partito la problematica che vive la città. Sì, questa è stata una prima fase della discussione che abbiamo voluto cominciare col Partito Nazionale, l'abbiamo cominciata ai massimi livelli. Ieri ho avuto l'onore di partecipare a un incontro organizzativo a livello nazionale presieduto dal Presidente Nazionale del Partito e dal Vice Segretario Nazionale e in quell'intervento io ho suddiviso il mio intervento in due fasi. La prima fase in cui ho sostenuto le ragioni che ci spingono a sostenere il SIA referendum. Nella seconda fase ho sostenuto le questioni che riguardano la nostra città, che oggi vive una situazione drammatica di difficoltà, di un'avvertenza che è tutt'altro che superato. Il primo partito della città, nonostante è all'opposizione a livello locale con forza e convinzione, non può che usare i suoi interlocutori, utilizzare le interlocuzioni nazionali per tentare di dare risposta adeguata a una città che sta soffrendo. E con le risposte dall'interlocuzione quali sono? Le risposte sono risposte di grande attenzione e di impegno, ma avremo nelle prossime settimane una serie di tavoli a massimi livelli anche con esponenti del Governo, proprio per affrontare la questione con grande rispetto per tutte le istituzioni, perché il nostro è un partito che lavora sempre in un quadro di responsabilità e tuttavia, siccome il primo partito della città non può esimersi rispetto a grandi questioni, vuole avere un'interlocuzione forte da parte dei dirigenti e del Governo nazionale. L'interlocuzione è di dirigenti e di esponenti di Governo che sono attenti alla questione di Gela. Però Perai hanno sentito fino ad oggi soltanto i fiumi di parole. Di concreto cosa c'è? Guardi, io non sono tra quelli che può essere iscritto ai fiumi di parole perché non ho le responsabilità rispetto al regresso. Io come il gruppo dirigente che sta lavorando nel Partito Democratico attualmente, quello che noi possiamo dire è che noi abbiamo fatto un congresso e ci abbiamo messo la faccia. Non ci nascondiamo, siamo in mezzo alla gente e siamo assolutamente convinti che rispetto alla questione industriale Gela debba continuare ad avere una vocazione industriale. Rispetto a questo il Partito Democratico della città ha avuto un atteggiamento di grande coerenza e continua a sostenere con convinzione che quella è la strada. Continuare ad avere una visione industriale che cambia nel rispetto dell'ambiente, nella tutela del territorio, ma non possiamo perdere quella storia perché perdere quella storia significherebbe ridimensionare dal nostro punto di vista in senso negativo questa città.